Siamo con Pietro Trivi, avvocato di Rosanna Gariboldi, che ci racconta come è andato l'interrogatorio proprio dell'ex assessore. Ieri sera nel pressoccasio di San Vittore si è svolto l'interrogatorio di Rosanna Gariboldi. L'interrogatorio è andato bene, direi, perché la nostra assistita ha risposto a tutte le domande, ha precisato, ha chiarito alcune circostanze che le sono state chieste dai pubblici ministeri, dalla dottoressa Pedio. Io credo che il quadro sia ora abbastanza chiaro. Noi adesso ci riserviamo di conferire con i pubblici ministeri per sentire anche un attimo i loro pareri, le loro riflessioni sull'interrogatorio reso dalla signora Gariboldi e poi comunque abbiamo un altro appuntamento per quello che riguarda la misura in corso, che è quello di venerdì, abbiamo un appuntamento al tribunale, l'udiente al tribunale del riesame. Ieri uno degli argomenti che non è stato toccato nell'interrogatorio è stato quella della rete di relazioni e rapporti politici che riguardano l'imprenditore Grossi e l'assessore Gariboldi, verrà trattato a parte in un altro interrogatorio questo tema? No, ieri non si è assolutamente toccata la rete delle amicizie dell'imprenditore Grossi e dell'assessore Gariboldi con eventuali altre persone coinvolte che potrebbero essere coinvolte toccate dalle indagini. Ieri si è parlato effettivamente dei fatti contestati alla signora Gariboldi, cioè del riciclaggio. Nessuna domanda è stata fatta dai pubblici ministeri né per quello che riguarda altri imprenditori né per quel che riguarda i politici o ambienti politici. L'inchiesta per quel che riguarda noi e per quel che interessa noi e per quello che i pubblici ministeri hanno chiesto alla signora Gariboldi è strettamente legata alla sua persona e non riguarda ambienti politici.